Benvenuti a tutti i telespettatori di Classe MBC all'interno dell'analisi tecnica, lo spazio dedicato alle vostre domande, perciò se ne avete mi raccomando prendete nota perché qua sotto tra pochissimo uscirà il numero di telefono che dovete fare per entrare in diretta qui con noi, messaggi chiaramente 3498275983, affrettatevi, proprio correte perché oggi c'è il buon Andrea Cartisano di Giotto Cellino Sim, qua con noi, buongiorno Andrea, buongiorno, è il gatto anche di Cartisano, non dimentichiamolo che quello è un elemento fondamentale del trading di Cartisano, buongiorno Andrea, diciamo che se non fossi una persona di parola sarei già dovuto andare via. Ma come fate voi trader ad avere una connessione, fate il trader e avete la connessione del 56k? Cioè mi si blocca tutto, dai non posso andare avanti, mi flagello. Aspetta un attimo, ho parlato prima con la regia e gli ho detto che dalla prossima volta mettiamo un portatile di scavo, ma perché non oggi? E facciamolo subito, tutto in diretta, tutto in diretta, vai vai, cosa devo fare? Ti stacchi un attimo, io intanto faccio la panoramica e ci proviamo, non ti voglio avere a scatti per un'ora, dai dai ci proviamo. Tutto in diretta, sì sì, intanto crepi la varizia. Allora nel frattempo che si risolvono i problemi abbiamo un mercato che sta andando bene, 0,65% di rialzo, 34.755 punti, vediamo un po' i volumi, 4.000 contratti bassissimi, bassissimi. Niente, ma è un po', oramai è qualche seduta che stiamo avendo dei volumi decisamente scarsi sia sul derivato che chiaramente anche sui titoli azionari, però vabbè, è così, siamo già a ferragosto praticamente con i volumi. Come stanno andando invece gli altri derivati? Stanno andando peggio di noi, ma questo sta diventando diciamo una bella abitudine per noi, brutta per loro, perché il DAX al momento guadagna, ma lo 0,20%, il Dow Jones e lo Stocks 50 invece rialzo dello 0,22%, 18.614 per il DAX, lo Stocks 50 invece a 4.938. Obbligazionari che sono sempre lì, sempre piatti, però adesso sono piatti tendenti a ribasso, prima quando l'avevamo visto questa mattina erano piatti ma tendenti a rialzo, alla luce del fatto che oggi c'è la BCE, alle 14 avremo il piacere di fare il BCE Watch come sempre, grandi ospiti in particolare ci sarà il nostro Nicola Esposito di Goodwill Asset Management che ci accompagna sempre e ci sarà anche la nostra Silvia Verzoni, la specialista di queste cose di massimi sistemi che sarà qua con noi, insomma ci faremo raccontare. un po' cosa si dice nelle segrete stanze di Bruxelles che lei è sempre a conoscenza di cose molto interessanti. Comunque BTP 0,03% di ribasso, il Bund perde lo 0,12% mentre l'OAT al momento è in calo dello 0,10%. Visto che ci siamo andiamo a vedere anche come si stanno comportando i rendimenti, 3,73% per il rendimento decennale, siamo saliti leggermente rispetto ai minimi che abbiamo posto più o meno intorno ai 3,69% perché è un livello molto importante il 3,69% perché se viene rotto a ribasso, c'è stato un mezzo tentativo ieri però abbiamo chiuso al di sopra, comunque se rompiamo a ribasso il 3,69% il 3,55% è proprio diretto, ci andiamo in un attimo per poi scendere verso il 3,46%. Rendimento del decennale italiano abbiamo fatto, rendimento dei decennali dei tedeschi sta girando a 2,43%, quello dei francesi al 3,08% e quello degli americani al 4,18%. Ora andiamo a vedere un po' come si stanno comportando anche i titoli del nostro destino principale, Iveco, fortissimo rimbalzo oggi per Iveco, 3,50% di rialzo, anche la Stellantis oggi viaggia bene, 2,30%, si riprende, non inverte completamente ma mette le basi poi se dovessero continuare gli acquisti nelle prossime sedute per un'inversione. Eni guadagna 0,86%, Bipero un punto percentuale, Unicredit il rialzo del 0,92%, l'intesa 0,97% e già da questi primi titoli potete capire che noi stiamo viaggiando bene perché le banche comunque reggono, Montepaschi 0,61% di rialzo, il banco guadagna lo 0,4%, il banco è l'unico che fa un po' di fatica. Quali sono invece i titoli che stanno facendo più fatica del banco? Prismian, meno 1,75%, oramai Prismian bisogna fare attenzione perché sta perdendo un po' di valore, non è ancora a livelli critici, critici, cioè poi stiamo parlando di un titolo che è sui massimi storici, critici nel senso perché siamo di bocca buona con Prismian e l'abbiamo vista solo rialzarsi nel corso delle ultime settimane, quindi adesso che vediamo un po' di vendite ci in mezzo allarmiamo, ma in realtà prima di passare in trend negativo di fondo per Prismian dobbiamo scendere sotto i 40%, quindi figuratevi abbiamo ancora un sacco di spazio. STM chiaramente tutta la questione del tech, dei semiconduttori oggi un po' pesano, però devo dire che già sta recuperando rispetto al punto percentuale che vedevamo di perdita a inizio mattinata, adesso siamo con un callo dello 0,15%. Interpump è ribasso dello 0,56%, ricordati per dello 0,10%, amplifono 0,07%. A livello di listino completo, così poi andiamo a discutere con il buon Cartisano che con la coda dell'occhio vedo che è ritornato in auge, adesso poi chiedo alla regia, un attimino mi dicono ancora, allora possiamo segnalare edilizia acrobatica, tra l'altro mi hanno chiamato quelli di edilizia, in realtà l'ufficio stampa, per, vediamo un po', torno da te con una risposta, proprio per organizzare e far venire il nuovo AD, così ci racconta un attimino, perché dicono che il sentiment insomma è un po' così e quindi vogliono raccontare un attimino quali sono i piani di sviluppo della società, e come sempre noi qua a porte aperte per gli imprenditori quando vuole, adesso vediamo se riusciamo a incastrare le agende per farli venire direttamente, settimana prossima, così noi prendiamo proprio il toro per le corna chiaramente. High Quality Food guadagna il 5,88, Eviso rialzo del 3,97, adesso poi stuzzico qua il mio compagno di merende su Eviso, perché siamo tornati a 5,24, anzi lo stuzzico subito perché è tornato, eccolo qua, allora ci siamo, abbiamo risolto? Buongiorno Andrea, bentornato, se è possibile è peggio di prima, pronto? Eh, oh, adesso, sembra buona, sembra buona, dai, va beh io continuo con la panoramica, vedete ragazzi in regia, magari risolviamo così vediamo se ce la facciamo oggi, allora, dopo Eviso cosa abbiamo? Lucisano che guadagna il 3,92, 10 mila euro di scambiato, Imsi, ecco su Imsi, poi con le telefonate che ci facciamo la sera con il buon Cartisano abbiamo detto, hm, qualcosa si muove e oggi infatti fa il 3,66% con 380 mila euro di scambiato. Cos'è che sta andando male? Vediamo un po', nel frattempo vedo che Von der Leyen propone un commissario europeo per il Mediterraneo, adesso poi vedremo. Allora, cosa sta andando male? C'è Ex Privia, Ex Privia, tra l'altro Ex Privia, basta, è finita, cos'è? Oggi è l'ultimo giorno di quotazione, quando era? No, forse era ieri addirittura l'ultimo giorno di quotazione per Ex Privia a seguito dell'OPA di Abaco 3 e quindi niente, la salutiamo, è stato un piacere, ci rivediamo quando ci rivediamo. Allora, NB, sapete cosa penso? Best B, stessa cosa, IPH, non ne parliamo, guardate Best B, era in calo del 10, adesso è più 25, però quota 0,010. Vabbè dai, vediamo se ce l'abbiamo in collegamento, no, non ancora. Altea Green Power perde 4 punti percentuali, 280 mila euro di scambiata, 7,39, poi cosa abbiamo ancora di interessante con un po' di volumi? Sul lato delle vendite, dai, oggi c'è Avio che perde 2 punti percentuali con 350 mila euro di scambiata, Caral che perde l'1,91, Prismian l'1,69, dai, poi il resto insomma abbiamo già avuto modo di vederlo e di raccontarlo, vediamo un po', la NULAT, NULAT che perde 0,95%, però 200 mila euro di scambiato, come sta andando NULAT, che è un po' che non la facciamo? Allora, vediamo un po' se... Allora, siamo sempre sui super massimi di NULAT, quindi niente da dire ancora, pure se perde qualche cosina va bene lo stesso. Va bene, dai, mi dicono di provare, io ci provo, vediamo se ce la facciamo. Buongiorno e bentornato, E3! Ho chiuso tutto, eh! Ma infatti adesso ti vedo bene, ti vedo, sei fluido, nel senso di connessione. Vabbè, ho un po' che pure lavorare, non ho capito io, eh! Ma quindi non hai più piattaforme, adesso come faccio a chiederti i titoli se hai chiuso tutto? No, allora, quella di analisi tecnica sì, sui grafici, ho chiuso le piattaforme di trading. Ecco, allora, sappiate già che poi mi chiamerà, ah, mi hai fatto perdere i massimi, proprio nel mentre che ci stavamo collegando c'era un'occasione che mi avrebbe fatto fare 2000 euro e tu mi hai fatto perdere. Sempre così va a finire. Però crepi l'avarizia, dai, tanto tu non hai problemi. Tanto ormai sono finito di nuovo al breve per la casa, quindi cambia poco. E vabbè, d'altronde, se ti vuoi comprare la maggiore presidenziale. Però in effetti devo dire che avendo chiuso tutto, la connessione è più fluida del solito. Eh beh, vedi te, per una volta non vai a scatti. Però vuol dire che il flusso dati sui prezzi di borsa occupa tanta banda. Eh, 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 sì, abbastanza, abbastanza. Va bene, dai, basta, finito, abbiamo risolto, punto di giornata e poi partiamo con le domande, vai. Ma devo dire ai telespettatori che in realtà era tutto organizzato per soddisfare il tuo ego. Ah, dici? Oddio, non lo so. Va bene, dai, punto di giornata. Devi fare un disclaimer o, anzi, adesso che te l'ho data lo dovrai fare sicuramente, no? No, 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 nessun disclaimer, perché comunque, comunque già ogni volta che lo faccio poi, come diciamo in Liguria, mi meni il bi puntato, quindi lo farò una volta al mese. Solo per la live sul canale YouTube che è il primo sabato dopo la chiusura del mese per analizzare quello che è successo il mese precedente e parlare di quello nuovo. Questa volta l'ho fatta sabato scorso perché sono talmente stanco per questo trasloco che mi ero completamente dimenticato. Però siccome mi vogliono bene, hanno detto, in realtà era tutto preparato perché volevi vedere l'esito delle elezioni francesi. Allora, veniamo ai mercati. Allora, la situazione è, nonostante tutto e nonostante tutti, molto positiva ancora, con mio grande stupore, nel senso che effettivamente se per una volta ha stupito in maniera negativa il Nasdaq perché ieri abbiamo avuto un calo che non vedevamo da dicembre 2022, questo mercato in linea di massima sembra non voler proprio scendere. Addirittura abbiamo avuto nella seduta in cui il Nasdaq aveva questa perdita così significativa un nuovo massimo storico per il Dow Jones e nonostante una candela che è una shooting star c'è stato un rally davvero importante anche sul Russell 2000. Sicuramente i movimenti di mercato sono molto legati in questa fase a quello che succede a livello politico. Io temo che se l'attentatore poi ucciso fosse riuscito a eliminare Trump, i mercati non sarebbero stati così sereni. E anche se io e te, anche se tu mi sembra che abbia un po' cambiato idea negli ultimi mesi sul Bitcoin, non siamo stati mai particolarmente caldi sul Bitcoin, bisogna riconoscere che lo scampato pericolo per l'attentato a Trump ha provocato un vero e proprio rally del Bitcoin che stava invece correggendo da diverse sedute. I futures americani oggi sono moderatamente positivi, per cui sembra già ci possa essere un argine al crollo di ieri, ma il tema è soprattutto quello dei semiconduttori. In particolar modo abbiamo avuto un calo sull'indice SOX del 6,8% ed era da quando è scoppiata la pandemia che non si verificava un calo del genere. Però tutto sommato dobbiamo essere piuttosto positivi. Secondo me è giusto però puntare su quelle aziende che sono rimaste indietro nelle ultime settimane, negli ultimi mesi. Oggi per esempio sta dando un buon segnale a mio avviso Stellantis. Anche Campari è una società che nonostante tutti i problemi ha comunque tenuto il doppio minimo sporco. Tutto in frame mensile per cui bisogna rimanere moderatamente positivi, ma considero ancora, soprattutto per dove stiamo ritornando, pericoloso, l'acquisto dei breakout, Prismian con l'ennesima alzata di target in data odierna, Docet perché comunque quando i titoli sono così tirati vanno gestiti in stop profit e non vanno incrementati o comunque provati sul breakout. Va bene, tutto qua? Tutto qua tra virgolette. L'ultimo aspetto da sottolineare, ma ne hai parlato tu anche prima perché ti seguivo, è che c'è purtroppo un problema enorme sui volumi che sono praticamente già volumi da ferragosto perché facciamo fatica a fare 2 miliardi di euro sull'MTA nella sua interezza e a livello di contratti FIB siamo comunque sempre sotto media. a ieri abbiamo scambiato leggermente di più, però il problema dei volumi è un problema che continuiamo a portarci purtroppo dietro da mesi. Va bene, dai, partiamo con le domande. Sei pronto? Sì. Va che oggi, anzi no, stavo giusto parlando di EDAC, sono usciti i conti, super conti perché hanno portato il titolo, vedevo, stava volando. Sai, sai. Sì, 67, dai, ne parlavamo giusto poco fa che adesso stiamo cercando di organizzare per averli qua in trasmissione. Sì, allora, sono usciti prima dell'apertura, mi pare, questi ricavi preliminari che poi in realtà non sono ricavi preliminari, erano, mi pare, nuovi contratti e nuovi clienti. Andiamo a vedere, guarda. Crescita, crescita tumultuosa perché mi pare che addirittura uno dei due dati sia sopra del 40%, però attenzione perché comunque è sempre una società che ci guardavo questa mattina, ne ho parlato proprio nel video di preapertura su YouTube, viene da un massimo storico di agosto 2021 a 20,9%. Quindi credo che sia un rimbalzo, a dir poco, fisiologico dopo che di recente era andata quasi a 8%. E qua ti ricordo che purtroppo il mercato ha punito oltremodo il titolo perché sono emersi questi 50 milioni, i famosi 50 milioni, guarda, me li faccio raccontare, me li faccio raccontare. Da dove siano usciti, ecco, magari se inviti la dottoressa Anna Maras perché credo che vorrà lei. No, mi sa che vogliono mandare, aspetta, era un nuovo addirittura. Chiunque sia, magari una domanda su quel tema così delicato andrebbe fatta perché è quello che ha, secondo me, come dire, penalizzato più di tutto il titolo, al di là che, come sappiamo, basta vedere una Shuker, basta vedere una Gibus. Tutte le società che avevano beneficiato oltremodo del bonus 110% adesso sono sicuramente in grande difficoltà. Eccola qua, recuperato. Riccardo Banfo, presidente del CdA e si è fuoco. Venga, venga. Ben vengano, sempre porta aperte. Va bene, dai, allora riparto con le domande e chiudiamo qua la storia. Eni, che fare? Eni, dai, partiamo facile. Eni. Va bene. Ah, poi dobbiamo parlare dei warrants di Fincantieri, però dopo. Parliamo adesso di Eni. Vai. Va bene. Allora, Eni, direi moderatamente positiva la situazione perché comunque c'è stata una reazione prima dei livelli più importanti di supporto, ovvero 13,88-13,81. Dopo la discesa di martedì sarebbe potuta arrivare anche su quei livelli, mentre sta già provando a rimbalzare. Quindi oggi ha fatto un massimo a 14,372, media mobile a 50 a 14,317, poi c'è la media mobile a 100, 14,607 e il massimo del 2 di luglio 14,69,8. La media mobile a 200 è poco sopra e mi riferisco a 14,78. In poche parole, titolo da trading range, al momento sembra che voglia tornare nella parte alta del range, per cui media mobile a 100, 14,607, 14,656, 14,6,9,8. Ascolta, stai facendo il furbo? In che senso? Hai riaperto le piattaforme di nascosto? No, 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 no. Che fai di nuovo a scatti e andavi così bene? No, 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 non ho aperto nulla, non ho aperto nulla. Vabbè, vabbè. Warrant Fincantieri, che me lo stanno chiedendo, tu che sei lo specialista. No, allora, io sono lo specialista dei Warrant Facili. Il Fincantieri mi sono dovuto far aiutare da, diciamo, due miei sodali che non mi hanno autorizzato a rivelare la loro identità. Mi hanno detto, noi ti aiutiamo perché non vogliamo che fai brutta figura, però non rivelare i nostri nomi. Vabbè, niente. Allora, praticamente… I trader mascarati li chiamerò. Eh, bravo. Allora, mi sono segnato anche l'appunto. Un conto è la questione tecnica, un conto è la questione pratica. Per la questione tecnica è cinque azioni ogni 34 Warrant. Prezzo di esercizio 4,44. Però, per le persone che devono decidere eventualmente se comprare o meno il Warrant Fincantieri, il calcolo che abbiamo ricavato che è quello più facile da fare è che ogni azione ci vogliono 6,8 Warrant. Quindi basta moltiplicare il prezzo del Warrant per 6,8, aggiungerci 4,44 e sappiamo, comprando il Warrant al prezzo attuale, quanto è valorizzata l'azione Fincantieri. Quindi è molto facile con questa formula matematica capire se il Warrant è a premio o a sconto. Quindi 0,19 e 0,9 per, mi hai detto 6,8, per 6,8, più 4,44, più 4,44 e siamo a 5,73. A premio in questo momento? 5,73. Infatti adesso il Warrant è sicuramente a premio, quindi se devo decidere di investire in Fincantieri è più giusto che io investa sul titolo piuttosto che sul Warrant. Cioè il Warrant sconta, e devo dire che io ci credo molto a questa ipotesi, che Fincantieri vada in rally perché io vedo Fincantieri almeno, fin in testa la media mobile a 200 che è 5,58, poi c'è massimo 7 di giugno che è 5,92, quindi media mobile a 100 che è 6,03. Eh, bella, bella Fincantieri. Niente, oramai ci siamo sperticati in lodi per l'operazione. Ma no, è che il mercato, noi trader di lungo corso, te l'ho già detto, stiamo facendo particolare fatica perché non siamo abituati a vedere questi titoli che erano Dead Walking Man, bisogna riconoscerlo, Montepaschi, Saipem, Fincantieri stessa, così nuovamente apprezzati dal mercato e Fincantieri, visto che l'aumento di capitale è stato sottoscritto con estrema facilità, se ci pensi l'inoptato era inferiore all'1%, quindi vuol dire che aveva già avuto un successo decisamente importante, potrebbe ricalcare il movimento già fatto da Paschi dopo l'ultimo aumento di capitale e da Saipem, per cui io credo che Fincantieri possa effettivamente accelerare a rialzo. Bene, buon lavoro di Folgero, insomma, buona operazione, adesso poi vedremo la messa a terra di tutti i progetti che ci sono. Buongiorno, chiedo gentilmente i livelli di entrata di Essilor Luxottica e Louis Vuitton sul CAC, grazie Marcello, allora andiamo direttamente sul CAC, ce l'hai o devi riaprire? Sì, no, lo prendo da qua al volo, lo prendo da qua al volo. Vuoi fare Essilor o LVMH? No, va bene Essilor, va bene Essilor, ma allora innanzitutto bisogna dire che il settore lusso, anche se Essilor Luxottica nonostante il nome non è proprio lusso, Louis Vuitton ovviamente sì, è in difficoltà in questa fase di mercato, siamo partiti con Barberri, poi c'è stato Swatch, poi c'è stato Ugo Boss e devo dire che l'unica cosa che bisogna fare è comprare su debolezza, quindi piazzare degli ordini anche multiday però con prezzi limite decisamente inferiori rispetto a quelli attuali, tra l'altro Essilor sta lottando in questi giorni sulla media mobile a 200 che transita poco sopra a 191, quindi io direi che se dovessi provare un ingresso su Essilor lo farei non prima di area 180 con uno stop probabilmente sotto 173, più che altro perché il rischio è che, anche se può sembrare ancora remota come ipotesi, che anche un titolo blasonato come Essilor possa tornare in area 160, questo perché è proprio il settore che sta pagando in maniera pesante il Dazio. Louis Vuitton ci sono due possibilità, o compro adesso, però attenzione, comprare adesso significa darsi uno stop non oltre area 685 o se no provo ad aspettare se ho un trading molto più conservativo, se sono un investitore che cerca l'occasione, allora direi che si può anche aspettare quasi minimi di periodo che sono stati nella seconda metà di gennaio di quest'anno, quindi diciamo 6,45 per dare un numero pieno. Ovviamente se compro area 6,45 devo comunque darmi uno stop perché, ripeto, c'è un po' di maretta sul settore e me lo darei sotto area 600. Vabbè, siamo a 6,95 quindi insomma spazio ce n'è ancora. Tra l'altro oggi in rialzo dello 0,81, occhio settimana prossima che ci sono i conti. Allora, buongiorno a livello di ingresso su STM, grazie. STM? Beh, STM devo dirti che ha stupito perché ha tenuto benissimo rispetto al sell-off che c'è stato sul settore chip. È stata impressionante per esempio la giornata di ieri su SML, ovviamente SML non gli è andata bene una ieri, cioè già i conti con i profitti in caro. I conti erano un po' i famosi luci e ombre sopra le stime ma molto meno del trimestre dello scorso anno, però più che altro è l'amministrazione americana che sembra voler mettere un giro di vite per le forniture alla Cina. Qua bisogna sottolineare questa cosa perché poi tanti hanno detto ah è Trump con le sue dichiarazioni su Taiwan, in realtà non era Trump ieri che ha fatto crollare, ha gettato benzina su fuoco, quello sicuramente, però in realtà è partito tutto dalle indiscrezioni sul fatto che l'amministrazione Biden voglia fare altre restrizioni, che non è in realtà sull'esportazione dei chip ma questa volta è restrizioni sull'esportazione dei macchinari sensibili per la produzione dei chip, perché adesso le aggiravano le sanzioni, cosa facevano? Non potevano più esportare i chip direttamente, allora portavano in Cina direttamente i macchinari per produrli là e poi è arrivato un giro di vite anche su quello, teoricamente, adesso poi vedremo. Perdonami, prego. No, 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 devo dire che ero ammirato perché sai che io molto spesso ti denigro, quindi a un certo punto devo dire che sono rimasto piacevolmente sorpreso di questa bellissima spiegazione. Grazie, grazie, grazie. Nel senso che comunque è vero che l'amministrazione Biden, però l'hai condita di particolari che io sinceramente non avrei saputo trasmettere alla platea. Sono qua per questo, sono qua per questo. Grazie, grazie, grazie. Allora, STM 37.435, minimo della congestione di breve, è un primo punto di ingresso, però c'è anche un gap lasciato aperto sul massimo del 2 luglio che è 37.07. L'unico vantaggio che c'è di entrare su debolezza su STM è che lo stop è obbligato e io lo metterei sotto il famoso minimo di periodo, dobbiamo andare indietro però al 26 ottobre del 2023, 35.1. Poi è ovvio che dobbiamo però considerare che se il titolo rimbalzasse dopo un nostro ingresso difficilmente andrebbe sopra 39.835 che è il massimo dell'11 luglio. per cui io tenderei almeno a aspettare la chiusura gap per un ingresso, quindi 37.07. Nel frattempo è arrivata una bella stafilata di vendite su SESA, meno 4.62 che probabilmente se avessi avuto la piattaforma aperta l'avresti approfittato. Va bene, vado avanti. Non ti sento reagire? Ah, non dice niente perché c'è la pezza che dico la reagire. Mi stavo trattenendo. Ah, ok. Ciao MX Stellantis, che succede? Vola con un più 3%. Stellantis, cos'erano i dati? Ho visto oggi passare nelle materie di lavorazione. I brutti sono piaciuti. No, beh, dai, loro sono andati bene, meglio degli altri, mettiamola così. Meno peggio degli altri. Meno peggio degli altri, mi piace. Tra l'altro io sono contento perché ho comprato lunedì in apertura il titolo, però oggettivamente io l'ho comprato di pura analisi tecnica, perché ormai finché continuo a questo mercato e mi voglio proprio turare il naso, perché il segnale ovviamente era molto chiaro. Guarda, probabilmente l'ingresso andava già fatto e qua non puoi dirmi no, non venire nel mio campo perché non è così nitida. Il 10 luglio è tutta. Il 10 luglio, questa è bella, è bella. È bella, però per la valenza di questa trendline mi ha stupito che non ha strappato bene a rialzo, ha fatto proprio un cosa... Guarda, è questa qua praticamente la candela per cui Andrea Cartisano cerca di togliermi lo scettro delle trendline. No, questo... Io mi sono solo offerto di scrivere la prefazione al tuo libro quando deciderai di darlo alle stampe. Eh sì. Va bene. Titolo però Trading con le trendline. Sì, ci può stare. Tre line dinamiche perché sennò poi si rischia di confondere. Va bene, detto questo, su Stellantis quindi? No, beh, bisogna essere ovviamente positivi di breve periodo perché è vero che dopo la rottura ha fatto quattro sedute quasi di riflessione, nel senso che non sapeva bene dove andare con range strettissimi. Oggi il segnale è decisamente buono. Abbiamo un obiettivo a 19,54 che è il massimo del 25 di giugno, poi c'è la media mobile a 50 che è 19,587 e quindi direi massimo 14 di giugno 19,72,2. Però, secondo me, Stellantis, essendo scesa così tanto, perché i massimi storici sono recenti, datati 26 di marzo, ma 27,35, che questo movimento di recupero potrebbe arrivare fino a 21,57 che è il massimo del 14 di maggio. Fin lì ci può arrivare. Va bene, allora andiamo avanti con le domande dei nostri telespettatori. Un po' di chiarezza su quello che succede su Sissiliti. Sissiliti? Sissili, Sissili. Sarà Sissili, sì, sarà Sissili by car, presumo, no? Boh, non lo so, io faccio Sissili by car, poi vediamo. Parti tu o parto io? No, parti tranquillamente tu, io sto zitto, in silenzio, religioso. Visto che tu hai un canale preferenziale con il Cavalier Dragotto, esagerato, volessi partire tu. No, però mi piace a me il Dragotto, a me mi diverte. Allora, il Cavalier Dragotto, che tra l'altro, se ricordo bene, ex giocatore anche di pallanuoto, perché quando era venuto a te mi sembra che l'avessi anche detto, per noi Liguri la pallanuoto è forte, a dir poco, fondamentale. Qualcuno dei due ha fatto anche il capitano dell'Oanno per tanti anni, tramite qualcuno dei due. Devo dire che è facile, vedendo i nostri fisici, chi può essere stato. E va buono, e va buono. Comunque, a parte questo, io ho il massimo rispetto per il Cavalier Dragotto perché è stato di parola. Perché, se ti ricordi, quando è venuto da te, ha detto, possono vendere, ma io sarò sempre lì pronto a comprare. E questo lo ha mantenuto come impegno. E basta vedere l'internal dealing, perché tutte le settimane lui compra anche quantitativi importanti. In più, c'è anche un piano di buyback. Però, è ovvio che la domanda del telespettatore è una domanda assolutamente pertinente, perché il titolo è molto vicino ai propri minimi storici. Allora, qual è il motivo per cui il titolo è qui? Ce ne sono almeno due. Il primo, e mi sembra che anche lui lo avesse fatto capire, Se ti ricordi, io ho la fortuna, certe volte è anche sfortuna avere tanta memoria, perché ti ricordi anche degli eventi negativi della tua vita. Però, diciamo che se fai il trader è un bel vantaggio. Che quando lo hai intervistato, molto onestamente ha detto che i risultati conseguiti fino a quel momento difficilmente sono stati triplicati. Perché, comunque, Sicily Bike Car era una delle poche aziende che noleggiano auto che aveva una flotta importante nel periodo post-Covid. Mentre molti stavano cambiando il parco auto, le consegne andavano a rilento, per cui ha fatto dei risultati quasi... No, no, lui l'aveva già cambiato, ha fatto questo sforzo, mi ricordo bene, aveva fatto questo sforzo durante il periodo di Covid, quando tutti invece non cambiavano più le auto, perché non sapeva cosa sarebbe successo. Lui invece l'ha cambiato tutte e si è ritrovato... Esatto, ecco, l'hai spiegata... Beh, è la seconda volta che la spieghi meglio di me, sono quasi quasi fatto via. Allora, quindi, però, lo ha detto da te e è stato molto onesto, ne riconosce, per cui quei risultati saranno difficilmente ripetibili. Poi, cosa è successo? Purtroppo, non so se ne hai parlato in trasmissione, c'è stata questa udienza sfavorevole presso il Tribunale di Bolzano per delle cause intentate da clienti di Sicily by Car per quanto riguarda i costi applicati per le violazioni al codice della strada. Non so, io sai che purtroppo da quando sono finito in bolletta, come si dice a Milano, noleggio molte auto, per cui purtroppo se prendi un autovelox con la tua auto, poniamo ZTL Bologna, dovrebbe essere 77 euro, io diciamo che lì ho dato, mi pare, 7-8 mila euro al comune di Bologna, tanto per capirci. Quando avevo ancora il mio parco auto, perché passavo impunemente per via Ogobassi e via Rizzoli per arrivare prima a strada maggiore, però in quel momento me lo potevo permettere. Però se lo avessi fatto con una società che noleggia le auto, mi avrebbe fatto pagare un costo per farmi recapitare la violazione al codice della strada. E i clienti di Sicily in primo grado hanno vinto e si tratta di tanti milioni di euro. E io credo che il motivo principale per cui oggi Sicily si ha a questi livelli di prezzo sia quello. Per cui magari un domani, se il Cavaliere venisse ancora da te, sarebbe opportuno approfondire questo argomento perché ballano veramente decine di milioni di euro, perché sono un decennio di violazioni al codice della strada. E credo che il mercato abbia paura di quello. Detto questo, se non perde il minimo storico del 20 di marzo 4,26, il titolo secondo me qua sta provando a creare una base accumulativa, quindi potrebbe tornare a 5,16 e poi incrocio medie mobili a 50 e a 100, 5,34 e 2, 5,35. Va bene, dai, vediamo se riesce a risollevarsi un po'. Buongiorno dottor Cartisano, puoi farmi un'analisi di Amplifon in carico a 31,5 grazie Gianluca Arco. Oh da Arco, Trento, bene bene, sono stato ad Arco. Va bene, Amplifon, la patria degli scalatori del free climbing. Amplifon e non solo. Allora, per quanto riguarda Amplifon, purtroppo la situazione è abbastanza negativa. Io ho voluto ugualmente provare a comprare il titolo, però poi purtroppo c'è stata un'ulteriore accelerazione a ribasso, perché sono usciti i dati della concorrente danese, mi sembra sia, che ha dato una sorta di profit warning e purtroppo anche Amplifon ne è stata condizionata. C'è stato un segnale, purtroppo una bull trap, secondo me il 12 di luglio, quando il titolo, dopo aver avuto un crollo per un giudizio negativo da parte di Equita, forse te lo ricorderai quando aveva messo in discussione i numeri per il 2024, però stava provando una base accumulativa, aveva nuovamente rotto la media mobile a 230.93 e poi invece già il giorno dopo l'ha ripersa e ha iniziato questa nuova fase di correzione. Il punto di non ritorno per il breve è 29.18, se adesso si mette in laterale e non va a fare nuovi minimi, io credo che il titolo fino a media mobile a 100, 32.63 e poi massimo del 5 di luglio 33.1 può tornarci. Concludo dicendo che anche se io ho comprato, ma ho comprato anche Campari, perché mi è sembrata un'occasione molto ghiotta dal punto di vista tecnico, sono due società che vanno molto di pari passo, sono entrambe valutate in maniera forse eccessiva sui fondamentali, sia per quanto riguarda l'EBITDA, l'EBIT, l'Utile Netto, entrambe hanno un debito molto importante, Amplifon oltre gli 800 milioni, Campari oltre un miliardo e due, però devo dire che soprattutto Amplifon, Campari ha anche i notti problemi legati all'ordine di controllo lussemburghese, sono sempre state molto difese dal mercato, per cui Amplifon per il momento, nonostante sia in chiara difficoltà, è un titolo che si può ancora tenere, dandosi a mio avviso uno stop sotto 29.18. E va bene, allora caro cartisano, omi, cartisano di coppia Rossella che mi manda la foto, che sta camminando dal gruppo del Sella, anche lì un saluto dall'Alpe dei Siusi, bellissima anche lì, il gruppo Sella, fantastico, bella foto anche, anche la montagna bisogna considerare d'estate. Per quanto riguarda SESA credo stia scendendo sulla scia dei dati trimestrali, appena, questo è in dubbio che sta scendendo sui dati che sono usciti, tra l'altro dati che, insomma, sì, sono stati meno, cioè, allora andiamo lì a leggere assieme cartisano, così vediamo un attimino se i dati, anzi, li prendiamo, così li leggiamo non solo io e cartisano, ma li leggiamo tutti insieme. Allora, fatemi prendere i comunicati, vediamolo qua, SESA, approvazione, dai, andiamolo a vedere, me lo caricate qua dietro per favore ragazzi. Allora, ricavi, ricavi altri proventi, adesso, vediamo se ce la facciamo perché non è detto, qua oggi le connessioni. Comunque, dai, intanto nel frattempo, più 10% i ricavi, 3 miliardi e 2, EBITDA consolidato a 239 più 14%, EBITDA marginal 7,5 in crescita rispetto al 7,2 del 2023, poi cosa abbiamo? Utile netto adjusted di 106,4 milioni più 4,1, liquidità netta per 211 milioni, ma cos'è che vuole il mercato da sta povera SESA? No, però dimmi, è l'anno, perché loro sono sfasati, e al 30 di giugno si conclude l'anno, giusto? Sì, 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 è l'annuale questo. Ti riesci a dare al volo la capitalizzazione? Sì, certamente, vado subito a prenderla. Così vediamo subito, è sempre stato un titolo valutato generosamente dal mercato, eh? Ma io l'ho sempre visto a massacrata, SESA. No, come multipli non ha mai avuto un pressor a 5 o a 10. Allora, capitalizzazione mi dà 1,845, un miliardo e 8. Ecco, dimmi un attimo l'EBITDA di nuovo. L'EBITDA, te lo vado a recuperare, adjusted, eh, però, vabbè, EBITDA 239,5. Sette e mezzo, utile netto? Dai, fai intelligenza artificiale, utile netto 106.4. Bah, secondo me è eccessiva questa... Anche secondo me, l'ho massacrata, ma sempre SESA. Comunque siamo tra 16 e 17 come price earning, quindi non vedo il motivo. Comunque, visto che ne abbiamo parlato, siamo in questo trading range compreso tra 113.2 e 120.9. Finché non perde 113.2 è un titolo che io proverei ancora a tenere. Boh, è sempre veramente stravenduta, ma io mi dico, ma scusa, ma cosa volete ancora da SESA, poverini? No, no, ma su questo hai ragione. C'è anche da dire, Emerick, che dai minimi del 25 di aprile 95.6 è arrivata fino in area 120, quindi più o meno ha fatto il 25% dalla seconda metà di aprile alla prima metà di luglio. Però, in effetti, considerato l'azienda che è, i numeri che arriva... Perché quando abbiamo iniziato a fare le prime trasmissioni assieme, che tu, visto che io ogni tanto ho qualche, purtroppo, reminiscenza di quando ero non un nobile decaduto come oggi, ma, insomma, mi difendevo, se ti ricordi la telefonata fu... Se vuoi, trasmettiamo da questo resort dove sono, ma c'è il letto col baldacchino e tu mi mandaste a spendere. Sul letto del baldacchino, ti mando a te. In quel periodo, in quel periodo, SESA fatturava ancora poco meno di un miliardo e mezzo. Quindi vuol dire che in 6-7 anni ha raddoppiato il fatturato, che raddoppiarlo da 100 milioni a 200 milioni è un conto, raddoppiarlo da un miliardo e mezzo a tre miliardi vuol dire che l'azienda è una grande azienda. Fa fare meno 9, ma non ci posso credere, guarda. Tra l'altro adesso sono spesa, meno 9 di teorico. Adesso zero di teorico, vanno veramente i matti. Buongiorno, Eme, che è possibile avere un'analisi di Yacht in carico a 2,95, ho preso il dividendo, che se non sbaglio ha anche Andrea e Tisg. Grazie e saluti al mitico cartisano Alessandro D'Affeltre. Allora, con cosa cominciamo? Con Yacht? Ferretti? Sì, 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 no, no, no. Sì, 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 no, no, no. No, non mi hai capito. Stavo elucubrando che dicevo Yacht, perché Yacht volendo è anche secco. No, è IOT secco, attenzione. Va bene, ho capito. Se vogliamo fare le cose fatte bene. Per noi persone di strada. Va bene, vai Ferretti. Sì, ce l'ho ferretti perché comunque, nonostante il titolo stia soffrendo, io ho detto che fino all'ultimo proverò a tenerla. Ovviamente sarò costretto ad abbandonare la nave, è proprio il caso di dirlo, sotto 2,71. 2,71 è il minimo storico del 5 di ottobre. Siamo abbastanza vicini, però io devo dire che sono abbastanza fiducioso per un rimpalso che può arrivare fino a 2,88, 2,90 e poi ci sono le medie mobili a 50, 2,96 e mezzo e a 200, 2,98. L'altro titolo, scusami? Era TISG, dell'Italian Si Group. Proprio. Li facciamo tutti, facciamo tutti. Sì, no, dico, dopo facciamo anche San Lorenzo. Visto che ci siamo. E Bellini non vogliamo farla pure. Sì, beh, Bellini tra l'altro è abbastanza, c'è molta pattisserie di periodo su Bellini. No, però ti ricordi quando ci mandò un messaggio quel telespettatore che disse mio padre via, ho comprato di Italian Si Group, cosa devo fare? Mi sembra quando ci fu il crollo il 27 di marzo e si trovava in guadagno e noi gli dicemmo vendi perché sei stato molto fortunato. Ecco, gli abbiamo dato un buon consiglio perché da quella seduta alle 27 di marzo il titolo è andato ancora ben sotto il minimo di quella seduta che era stato a 9,57 il minimo. Adesso è su livelli molto importanti perché sui minimi odierni sostanzialmente transita la media mobile a 200. Quindi è un titolo che terrei ancora ma mi darei uno stop sotto il minimo del 19 di gennaio che è 8,82. La vedo comunque pronta per un rimbalzo con primo obiettivo 9,35, poi la media mobile a 50 che è 9,47, quindi la media mobile a 100 che è 9,686. Il cutre di eviso mica? Qualcuno che mi diceva che è 5,32, più 5. Regalami un eviso. Sì. Allora, guarda lì come ha ritestato bene. Ah, però attenzione perché ha ritestato la neckline del famoso testa e spalle, quindi occhio adesso. Allora, devo dire che ti sei riabilitato. Eh, meno male. Ma sai che secondo me guarda lì c'è qualcosa perché hanno fatto adesso, hanno approvato la questione del voto multiplo, ok? E quando fanno queste operazioni qua secondo me c'è qualcuno che ci sono mosse sotterranee sull'azionario perché se no uno non la fa l'approvazione. Devo dirti che probabilmente tu hai anche, da quello che mi hai confidato, ma non è un segreto, avuto diciamo la possibilità di parlare direttamente con la società. Eh sì, sì, ci ho parlato con quelli che erano a Parigi, ci ho parlato questi 40 minuti, l'ho torcchiato a sovrasi. Anche se io ti ho accusato di essere troppo benevolo, tu lo sei stato perché avevi sentito dalla viva voce della società delle notizie interessanti che comunque... No, ma in realtà era più... Capire bene il business model perché secondo me alla fine non si era capito bene. Che era particolare, eh? Era particolare, assolutamente. Però da lì una volta che lo capisci dici, ma attenzione che questi non sono così, sono interessanti, eh? Perché bisogna capire il business model, anche nella società che tra poco avremo in collegamento, Growth Italia, bisogna capire bene che sono quelli di Circle, tra l'altro abbiamo già Abattello che ci sta ascoltando e quindi mi raccomando non dire cose strane. E... Eh, vedi, è il campanilismo. Va bene, dai, comunque ritornando a Eviso, analisi tecnica. No, dicevo, l'unica cosa che fortunatamente le ultime tre sedute ti hanno fatto riabilitare nei confronti della community di classe NBC, soprattutto quella dedita alla fascia trading. Però bisogna riconoscere che non era facile prevedere questa quasi inversione a V perché potremmo definire l'andamento delle sedute del 12 e del 15, scusami, di luglio quasi come un tentativo di beer trap perché il titolo aveva fatto il 12 di luglio una shooting star, massimo 4,68, chiusura a 4,42 con perdita della media mobile a 100 al tempo 4,53,7, la seduta successiva, quella del 15, una doji e poi ripartenza a razzo con due Marubozu White di fila, la prima quella del 16 con rottura di movimento della media mobile a 100, 4,56, 6. oggi è stata perfetta perché aperto in gap a 5,22, aveva lasciato un gap aperto a 5,04 richiuso in maniera precisa e adesso sembra, se non oggi, già magari domani, poter tornare sui massimi del 24 di giugno 5,48. Va bene, allora, dai andiamo che... no, abbiamo ancora un paio di minuti, un po' di tempo ce l'abbiamo per rispondere ai nostri telespettatori. Buongiorno, ma avete problemi di trasmissione? Eh, hanno... sì, mi hanno detto che i ragazzi stanno risolvendo perché più che con noi ci sono le pubblicità su internet che creano problemi, quindi stanno risolvendo, stanno risolvendo, abbiate fiducia. Buongiorno carissimo, potete parlare di Eviso, fatto, l'abbiamo appena fatto, poi vediamo un po', ho in carico Seco a 3,2 e Ulisse a 1,6, che fare? Allora, andiamo a fare IoT e poi Ulisse Biomed che è anche quella, ha una vita che non la facciamo, vai! Seco! Allora, finalmente posso parlare di Yacht. Eh, di Yacht, sì. Eh, beh... Eh, però, ma non mi hai detto iVision, invece di iVision, non ci siamo. Devo dire, eh, guarda, adesso chiamerò quelli di Borsurama, chiederò di farmi assumere da loro così, dovrò parlare solo francese, potrei chiedere un posto anche per te. Grazie. Allora, Seco è in una situazione, a dir poco, delicatissima, come nemmeno Christian De Sica nei film degli anni Ottanta sapeva dire, perché è un doppio minimo storico. Quindi, eh, adesso fortunatamente sta rimbalzando, però attenzione perché la situazione è piuttosto complicata. Minimo 9 di febbraio 2,75, 8, eh, nelle ultime sedute, e mi riferisco a martedì 2,74 e ieri 2,75. Poi, per fortuna, ha fatto dei mini hammer e il livello l'ha tenuto. Però, il titolo è veramente ancora molto a rischio. Eh, se vogliamo avere degli stop rigorosi e la prima chiusura giornaliera inferiore a 2,74, sarebbe opportuno accettare anche una perdita e uscire dal titolo. Però, adesso mi sembra pronta per un rimbalzo. Primo obiettivo 2,99, poi 3,06, considerato che la media mobile a 50 è 3,076. Se vogliamo, ancora più drammatica per il telespettatore, la situazione su Ulisse Biomed, perché il suo prezzo di carico è abbastanza lontano dai livelli attuali. Tra l'altro, se tracci, questa è bellissima, eh, la trendline ripassista partita dal massimo del 20 di febbraio, vedi come, 20 febbraio, scusami, ovviamente del 2023, vedi proprio come ogni tentativo di rimbalzo del titolo è stato respinto. Adesso, tra l'altro, si trova proprio con il massimo odierno sulla trendline ribassista, sulla residenza dinamica. La buona notizia è che, finalmente, sembra pronta per rimbalzare. Tornare in area 1,20, poi media mobile a 100 che è 1,25, massimo 16 di maggio 1,34. L'1,60 è un po' ancora un miraggio. C'è da dire che chi investe in Ulisse Biomed deve considerarla una sorta di start-up. Ah, è una biotech, è una biotech, è come tutte le biotech, va in base a… I numeri sono da start-up, fa dei fatturati ancora risibili. Chi investe in Ulisse Biomed deve valutare l'investimento come una vera e propria scommessa, perché se dovesse trovare, ovviamente, un prodotto che viene distribuito, il titolo può fare anche il 50% in un giorno. Sappiamo come funziona per le biotech, però adesso credo che può ambire il telespettatore a un rimbalzo che, nell'ipotesi migliore, non dovrebbe andare oltre 1,34, che è appunto il massimo dello scorso 16 di maggio. Ah, vedi che mi ha scritto il telespettatore, quello del figlio, Sergio è il figlio e lui invece è Maurizio. Allora, senti, siamo in chiusura, caro Andrea Cartisano. Però permettimi di dire una cosa, magari non avrei fatto comunque SESA, poi devo vedere com'è SESA, quindi non so al momento tutto chiuso quanto mi sei costato, però dopo una partenza estremamente deludente siamo andati in un crescendo rossinale. Sì, 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 va bene. Occhio però perché è pericoloso, perché adesso dovrai chiudere per sempre tutte le tue piattaforme per fare il collegamento con noi. No, allora lo farò d'estate, poi quando arriverà l'autunno ritornerà il mio amico Isalle Manca dalla Sardegna e mi ha già detto che farà una linea dedicata solo per i collegamenti. Meno male, meno male. Ulisse 1,16, no 1,6, ah 1,16, non 1,6, ho sbagliato io a dirlo. No, aspetta, no, se ha 1,16 allora può tornare anche in guadagno. Ok, perfetto. Dobbiamo... Ho sbagliato io, ho sbagliato io a leggere. Errore mio, caro Andrea Cartisano, non so come farò. Ho sbagliato già sopra i tuoi standard, per cui è giusto che alla fine dovevi per forza cadere... Sei simpatico, sei simpatico, bravo, bravo, ti richiamerò sicuramente. E' un bravo. Ciao, ciao Andrea, come sempre, è un piacere. Che lo saluto a tutti. A dopo. Allora, terminiamo qui con fascia trading e analisi tecnica, come anticipato, rimanete con noi perché dopo il break abbiamo un approfondimento dedicato al growth, con noi, Circle. Grazie a tutti.